Ciao a tutti! Oggi visitiamo Certaldo Alto, in Toscana. Hi everybody! Today we visit Certaldo Alto, in Toscani. Alto means egg. Certaldo è celebre per essere stato il luogo di nascita del poeta e scrittore Giovanni Boccaccio. Certaldo is famous for being the birthplace of the poet and writer Giovanni Boccaccio. Per raggiungere il centro storico, che è in una posizione elevata perché è posto su un colle, prendiamo la funicolare in piazza del Boccaccio a Certaldo, dove possiamo anche parcheggiare l'auto. To reach the historical center, which is in elevated position, because it is located on a hill, we take the funicular in piazza del Boccaccio in Certaldo. In piazza del Boccaccio, we can also park the car. Trare! Oh yeah! What's that? Ha? No, you can't stop. Huh? You can't stop. Thank you. essenori. Un'altra part? Ah! Grazie a tutti. Grazie a tutti. La puoi leggere anche qui nei sottotitoli mentre continuiamo la nostra passeggiata. You can also read it here in the captions while continuing our work. Grazie a tutti. Grazie. 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 e i resta ristoranti che probabilmente si apriranno dopo è il giorno di un'epoca di solito Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Una curiosità In one of the halls of this palace Ten balia or magistrates held their meetings Their sentences were irrevocable and unappealable From here we understand the reason for this Italian expression The destiny of those who were judged depended on this balia Anche per oggi il nostro tour finisce qui Ma ci vediamo nel prossimo video con altre avventure ed altre cose interessanti da scoprire ed imparare Ciao ed alla prossima! Also for today our tour ends here But see you in the next video with other adventures and other interesting things to discover and learn See you next time! Bye!